Si titola Diversity Show ed è un programma, un comedian show, lo definisco così, del grande Paolo Ruffini. Uno show in qualche maniera scorretto che fa sicuramente ridere come nello studio del buon Paolino, ma al tempo stesso fa anche pensare, fa anche riflettere, ed anche poco. A partire da oggi, 26 aprile 2021, su canale Sky128, un show di una sola puntata, per adesso ovviamente, dove ovviamente si fa della comicità pura, ma al tempo stesso diversa. Una comicità che porto anche io in onda attraverso il canale Conoscitore Italiano, che vi invito a vedere, che vi invito a visualizzare, dove faccio il buffone in molte circostanze, ma vi faccio anche molto riflettere parlando di morte, di vita, di religione e di filosofia. Così fa lo stesso Ruffini, ci fa divertire, ci fa, diciamo così, intrattenere, ci mette tanta ironia, però al tempo stesso ci fa anche molto riflettere. Complimenti dunque al buon Paolino Ruffini, artista tutto tondo, toscano per eccellenza, di Livorno, se non ho mai errato, con diversi, di uno show scorretto, divertente, ebrioso, ma anche capace di farci riflettere, di indurci a fare delle riflessioni meditate. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, attivate la campanella, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a voi.